Buonasera, siamo qui con il nostro ospite quotidiano, no, giornaliero, no, con il nostro ospite Maurizio Matrone, scrittore bolognese ma di adozione, non è un bolognese nato ma è nato a Verona, qualche annetto fa. Ma è un personaggio oltre che uno scrittore perché si caratterizza la sua vita privata e caratterizzata dal fatto che è anche un poliziotto quindi inevitabilmente oggi gli faremo domande anche in questo senso perché il nostro interesse non è solo quello di parlare libri, di letteratura, di scrittura ma proprio di entrare nel mondo di uno scrittore, di riuscire a capire quali sono le motivazioni, i tempi e come la scrittura, come esperienza quotidiana o quasi di vita si svolge nel corso soprattutto di chi anche fa un altro mestiere proprio come te. Maurizio Matrone ha esordito alcuni anni fa con un romanzo, anzi vi dico l'anno preciso, è il 1998 con un romanzo dal titolo subito molto hard, fiato di sbirro. Ha pubblicato un altro romanzo per bambini in una collana della Walt Disney, anche di questo saremo curiosi di sapere il tipo di esperienza, come è stata. Molte cose le abbiamo lette qua e là, sono riviste di settore molto interessanti di vario tipo ma soprattutto il primo romanzo che ha avuto un impatto più forte nel mondo letterario italiano è uscito nel 2003 per i tipi di frassinelli e si intitolava Erba alta. Comincerei da questo primo romanzo, primo romanzo di impatto direi, prima di parlare del nuovo perché è molto tipico su quello che riguarda la scrittura di Maurizio e anche i temi che affronta. è la storia romanzo di alcuni poliziotti e di tutte le avventure e disavventure che sono state legate all'esperienza terribile per la città di Bologna della famosa, della cosiddetta Uno Bianca. Quando questo romanzo è uscito ci sono state molte conversazioni tra esperti del settore ma non solo, anche in incontri pubblici perché è un argomento che soprattutto nella città da cui proviene Maurizio Bologna ha creato moltissimi, ovviamente l'emotività su questo argomento era sempre stata forte. Vorrei cominciare con Maurizio a chiedere perché è proprio un romanzo sulla Uno Bianca, tu in particolare che sei un poliziotto. Per la mia esperienza lavorativa e anche perché sentivo l'esigenza di raccontare una storia che tutti invece avrebbero voluto dimenticare. Io l'ho vissuta di striscio e in prima persona perché ho avuto un'esperienza lavorativa con un paio di elementi di quelli della banda Uno Bianca. E quindi per me questo è un libro intanto sulla mia memoria di Poliziotto, sulla memoria di una città, sulla memoria di un momento terribile che ha accompagnato sette lunghissimi anni di terrore tra Bologna e Pesaro. Una lunga scea di morti e feriti, un grande mistero questi della Uno Bianca, con erba alta che è un po' la metafora di quello che accadeva come titolo, di quello che accadeva in quegli anni dove l'erba era così alta che era difficile vedere oltre. Quindi per noi poliziotti che non ci saremmo mai aspettati che dei nostri colleghi fossero stati responsabili di tanto sangue. Ecco, ovviamente entriamo in uno degli argomenti forti che un incontro come questo può suscitare. Essendo tu un professionista di un certo tipo, lavorando in polizia, come romanzi, come erba alta, che sono romanzi, anche il precedente, Fiatto di Sbiro, che si svolgeva sempre a Bologna, di argomenti molto forti, molto duri, come un poliziotto come te che lavora nelle volanti, che ha esperienze quindi di rete del mondo più duro, viene accolto dai suoi colleghi. Anche perché, devo dire la verità, nei tuoi libri i poliziotti non sono risparmiati, non sono edulcorati, non sono tutti buoni come i marescialli Roccavari dei Carabinieri, eccetera, eccetera. Sono come, presumo, siano davvero. Tu non cerchi di temperare le atmosfere anche cupe, anche dure, che nel tuo ambiente di lavoro, presumo, incontrerai. Come, ad esempio, si può notare in questi popolarissimi sceneggiati attuali, dove tutti i distretti di polizia, le scuole di polizia varie, alla fine sono tutte molto, sin troppo rassicuranti. I tuoi poliziotti non sono rassicuranti. Presumo, e tu me lo confermerai, che sia un'esigenza di verità, in questo senso. Come i tuoi colleghi prendono questa tua professione, anche, ti leggono innanzitutto, che sarebbe già interessante saperlo, e se ti leggono, ti contestano, ti danno pacca sulla spalla e ti dicono, bravo, hai coraggio? E' vero, non sono rassicuranti, forse questi poliziotti non sono neanche rassicurati. E' vero che ho fatto un'operazione tipo iperrealista, quindi mettendo in evidenza il più possibile quelli che erano i lati oscuri, quelli che sono, che io credo siano i lati oscuri del lavoro del poliziotto. Però il lavoro del poliziotto non ha solo questi lati oscuri, tra virgolette, cattivi o legati a un aspetto particolare del lavoro. Ci sono anche i lati oscuri, che invece racconto nel mio nome Tarzan Soraya, che sono quelli così sconosciuti, che non finiscono nelle cronache, o non hanno il clamore della cronaca come può averlo un poliziotto delinquente, ma allo stesso tempo sono poliziotti che lavorano quotidianamente e evitano che il crimine accada. Quindi non finiscono nelle statistiche, perché a questi poliziotti non viene mai detto ah, hai sequestrato 100 kg di cocaina. No, questi poliziotti sono quelli che impediscono, a volte solo con la loro presenza, solo con il loro mestiere quotidiano, che della gente si compie dei reati o che compie azioni illegali. Ovvio, è più seducente il male come aspetto letterario. E quindi anche per me poi scrivere Tarzan Soraya era una sfida. Quindi si è in grado di scrivere, sì, la seduzione del male come la dark side, come se in Guerre Stellari ci fosse questa forza che seduce perché è quella che non vorremmo mai vedere. Però a volte non vorremmo neanche mai vedere le cose belle o le cose positive. E quindi con questo nuovo romanzo, che è Il mio nome è Tarzan Soraya, volevo tirare fuori questo aspetto che invece in Erba Alta era esagerato dalla parte opposta. Ma va bene, adesso te l'amplio e te la in qualche modo amplifico. Intanto il libro è questo, è l'ultimo libro di Maurizio, che si chiama Il mio nome è Tarzan Soraya. E in effetti per chi ha letto tutta la sua produzione precedente è una netta divergenza cioè tra il modo di affrontare un tema precedente che era duro, la scuola dei duri, l'hard boiled, senza pietà e in un certo qual modo spietato nei confronti di chi legge, ma bellamente spietato perché è in grado poi di creare emozioni e adrenalina. In questo romanzo la scelta è in qualche modo più orientata verso la ricerca dell'umanità, della profondità, di quanto viene portato a galla emozionalmente. E anche i poliziotti così duri, rigidi, nei tuoi libri precedenti, mostrano una umanità, un'attenzione, una cura nel rapporto con questo Tarzan Soraya che in qualche modo rasserena. Chi ha letto i tuoi precedenti poliziotti li trovava senza pietà, finalmente dice ma allora può essere anche in modo diverso. C'è una cosa che mi spinge a farti una domanda ancora in questo senso. Maurizio è un laureato in pedagogia e i suoi studi li ha portati nel suo lavoro e uno dei libri principali in questo senso, prima ancora di iniziare a scrivere narrativa, è proprio stato dedicato alle necessità del lavoro culturale anche in polizia, alla necessità di un approfondimento dei temi di studio e di ricerca e non solo che il poliziotto ti insegna a sparare, sai fare due mosse di karate, non lo so, e come si mettono le manette, eccetera. Quindi questo secondo me viene da quella esperienza, il bisogno di umanizzare, di approfondire emotivamente e umanamente il tuo lavoro. Ci sono spazi per fare questo in polizia? Perché io so che è un tuo interesse. Sì, così mi aggancio alla risposta che non ti ho dato prima, che effettivamente una parte di miei colleghi è molto felice che io scriva questi libri perché in qualche modo metto in luce aspetti e problemi del nostro mestiere, che è un mestiere bello e complicato, io lo dico sempre, è un mestiere molto cinematografico perché siamo dappertutto, cioè nei film, in televisione, nei romanzi, e quindi noi stessi in qualche modo siamo dei personaggi da romanzo. E allora quando qualcuno mette in verità o tra virgolette in realtà il proprio mestiere, lo apprezza molto. Altri che invece non amano ricordare cose brutte, cose che o perlomeno pensano che certe cose vadano dimenticate, come la uno bianca, non lo hanno mai visto di buon occhio, non vedono di buon occhio il mio mestiere di scrittore, perché sembra quasi che io getta del fango sulla polizia. Invece no, insomma, io non è che voglio gettare fango, secondo me chi getta fango e chi infanga la divisa del poliziotto sono i delinquenti, non quelli che raccontano una verità o la propria verità, la storia o le storie. Però questo non pretendo di essere io a dire dove sta questa verità. Credo, per esaudire questa risposta, per esaurire anche questa risposta, che un lavoro di tipo psicologico, non necessariamente psicanalitico, anzi per carità, però psicologico nel mondo delle forze di polizia tutte, penso che sia necessario, perché il lavoro del poliziotto è un mestiere tra la gente, anche se questo è uno slogan del Ministero, ma per non renderlo vuoto di significato, ma invece per riempirlo di contenuti, è bene che esista una formazione alta del poliziotto, di modo che nessuno possa tacciarlo di essere un cattivo poliziotto, semmai un cattivo professionista. E questo, cioè io dico sempre che noi abbiamo la polizia che ci meritiamo, abbiamo la polizia che ci meritiamo perché non stiamo attenti al mestiere del poliziotto, lo vediamo in tv, al cinema, eccetera, però conosciamo poco delle tensioni che ci sono quotidianamente, dei grandi problemi, delle situazioni che ci vogliamo quotidianamente affrontare. e invece veniamo trattati alla stregua di, noi ci chiamiamo operai, no? Operai della polizia, dove ci dicono di fare una cosa e non la dobbiamo fare. Se invece fossimo dei veri professionisti, probabilmente saremmo molti di meno e saremmo molto più preparati e probabilmente prenderemo anche più soldi di stipendio. Invece c'è questa tendenza a dire che ci vuole molta più polizia, però secondo me ha poco senso, perché l'importante è avere una polizia molto più qualificata, non quantitativamente, ma qualitativamente. ecco perché tutto questo mio interesse parte ai miei studi per far sì che le forze di polizia, la polizia di Stato, nella quale lavoro, possano avere un bagaglio culturale, professionale, sempre più alto, in modo da rispondere con maggiore capacità a quelle che sono le esigenze dei cittadini, che poi questo è il nostro mestiere. Non dobbiamo dimenticare che è qualificata come una professione di servizio, quella del poliziotto, quindi è importante e di aiuto. Però siamo qua per parlare soprattutto di libri, quindi dobbiamo fare un passo avanti, secondo me, di scrittura, di libri. Quindi ci sono due cose che ti voglio chiedere soprattutto. Un po' questo discorso della moda. Crescono vertiginosamente, cresce vertiginosamente il numero degli scrittori che hanno una professionalità nel mondo della giustizia o della polizia. Vediamo tutti i giorni uscire libri di poliziotti, ma non solo, di magistrati, di giudici, eccetera. Questa moda ha una motivazione particolare, secondo te, oppure semplicemente il fatto che la televisione trova un veicolo così accattivante per raccontare storie di thrilling, thrilling o misteri, e i personaggi che la possono fare sono i poliziotti, poliziotti, oppure c'è qualcos'altro? Questa era una domanda che mi interessava, perché continuo a vedere giorni, metà giorni della settimana, c'è un libro nuovo che è scritto un poliziotto, un magistrato, un giudice. È una moda o non è una moda? Poi, il discorso che secondo me è interessante è che dovremmo entrare anche un po' nel laboratorio dello scrittore, anche se in breve tempo. So che tu hai partecipato ad alcune di queste sceneggiature dei serial televisivi sulla polizia, quindi in che cosa hai sentito differenziarsi la tua scrittura? Perché penso possa interessare il fatto che uno che ha sempre scritto narrativa si trova catapultato in un mondo diverso. Come cambia la scrittura? Quindi queste due cose mi interessano. È una moda essere poliziotti, ad esempio perché non crescono i pediatri, i scrittori, e se è cambiata molto la tua scrittura per la televisione. Ma non c'è solo la moda, c'è la moda se così la vogliamo chiamare, dei poliziotti, avvocati, giudici, scrittori. C'è una moda della scrittura che abbia, cioè c'è una moda della scrittura di genere, dove sembra che il romanzo di successo debba per forza essere un mistero, un giallo noir, quello che è. Quindi anche i cantanti si dedicano con grande... non solo gli avvocati, anche i comici, nonché i famosi ginecologi come Flamini, quindi tutti si dedicano alla scrittura di genere. Le case editrici stesse, trovando un giallo del comico di turno o del poliziotto di turno, lo accettano più ben volentieri che un romanzo di narrativa, una storia di una bella storia d'amore. Perché evidentemente c'è una esigenza del mercato che, e lo vediamo, tant'è vero che i libri più letti sono gialli, e credo, adesso non vorrei sbagliarmi, il 70-80% di libri letti in Italia sono gialli, noir, eccetera, è evidente che non è tanto la moda dei poliziotti quanto è la moda del genere. Che cosa succede? Che i poliziotti, gli avvocati, i giudici, eccetera, che lavorano in questo settore hanno alla portata di mano più storie, più originali, proprio perché vengono dalla realtà, che vivono quotidianamente, e quindi sono avvantaggiati rispetto agli altri, anche perché, grazie alla nuova generazione degli scrittori di genere, grazie alle trasmissioni televisive, ai film, eccetera, il lettore ha un'esigenza di realismo molto più alta di quella che aveva vent'anni fa. Se vent'anni fa si beveva una procedura fantasiosa da un punto di vista poliziesco, adesso è capace di dirti eh no, questa cosa qui il poliziotto non la può fare. Quindi, da una parte, gli scrittori che non sono del mestiere si devono documentare documentare da noi, quindi ci chiedono cose. E dall'altra, gli scrittori, i poliziotti, i avvocati, i giudici, hanno del materiale per raccontare storie, che comunque si tratta sempre di storie, che hanno a che fare con il mistero, le cose che non si conoscono, il dolore, la morte, a volte anche pruriginosamente. Però, sono storie che attraverso il meccanismo del giallo permettono di raccontare, così come ricordo un romanzo straordinario di Massimo Carlotto che è L'oscura immensità della morte, raccontare fatti, situazioni, episodi che un saggio non solo non sarebbe in grado di raccontare, ma che nemmeno un giornalista vorrebbe tirare fuori per un suo scoop o inchiesta. Quindi diventa quasi un romanzo d'inchiesta, diventa un romanzo di tipo sociale, diventa il nuovo romanzo sociale, il poliziesco, però insomma non sono io a dirlo, l'hanno detto tanti altri prima di me. E invece, proprio perché sono un poliziato, mi hanno chiesto più volte di lavorare con la televisione, io ho lavorato come consulente per la squadra Distretto di Polizia nei primissimi episodi e poi recentemente ho scritto con Gian Piero Rigosi la sceneggiatura per un episodio di una serie di telefilm tratti dai romanzi di Carlo Lucarelli che uscirà a febbraio che si intitolà Ispettore Cogliandro e lì ho visto che il mio linguaggio poliziesco ben si ritagliava per una sceneggiatura dove ovviamente il dolore fisico per la scrittura è completamente diverso da quello per cui si scrive un libro e anche l'aspetto economico è molto differente quindi è molto divertente lavorare per la televisione perché si scrive con molta tranquillità e proprio il tipo di scrittura essendo così diverso da quello del romanzo ha meno ripensamenti strutturali meno vincoli poetici non so come spiegarti meglio però bisogna dire che aiuta nel senso che lavorando per la televisione si hanno in mente degli scenari così interessanti che si possono trasmettere nel romanzo e viceversa quindi è comunque un'esperienza di scrittura a questo proposito come dicevamo all'inizio hai una discreta e ampia esperienza in vari tipi di scritture come raccontavo ti sei cimentato anche nella scrittura per bambini il libro si chiamava Il bolide fantasma è uscito per le edizioni Walt Disney nel 2002 secondo me ci puoi raccontare qualcosa di curioso anche in questo senso perché ci sono certi obblighi certi c'è un reticolo di obblighi nella scrittura per l'infanzia che credo tu abbia di persona sperimentato e al quale sei dovuto sottostare scrivere per bambini è molto divertente non ho fatto solo questa esperienza come romanzo sì però ho scritto per ragazzi per riviste e altre cose dunque non ho subito una vera e propria censura però tutta una serie di paletti che così vengono chiamati dove il personaggio principale in questo caso era Topolino certe cose per esempio non poteva farle non poteva dirle c'erano delle scene che non poteva assolutamente vivere devo dire che più paletti hanno messo su questa storia più ha stimolato la mia fantasia a superarli e quindi oltre che essere stimolante questo mestiere anche tira fuori delle capacità o delle idee che magari non ti saresti mai immaginato chiaramente il linguaggio cambia cambia il tipo di ritmo però le idee sono sono quelle anche dei grandi quindi non vedo tutta questa differenza cioè secondo me poi non esiste il romanzo per ragazzi esiste il romanzo che piace ai ragazzi quindi è il romanzo che non piace agli adulti piace ai ragazzi eccetera eccetera quindi voler proprio scrivere per l'infanzia potrebbe essere un limite potrebbe essere considerato come un paletto da superare tu poi hai avuto un critico e un aiuto eccezionale in tuo figlio che è un lettore scatenato e quindi ha sicuramente avuto uno spirito critico nel leggerti e ti ha aiutato comunque vorrei farti un'ultima domanda per concludere addentrandoci proprio nel discorso del laboratorio dello scrittore mi hai parlato un giorno della tua idea sul tuo prossimo libro che è di nuovo un'idea forte un'idea molto che caratterizza sicuramente molto il tipo di romanzo che vorrei fare che riguarda ancora una volta la nostra città e soprattutto un grosso dolore della nostra città ed è la tua intenzione di scrivere un romanzo che abbia come filo conduttore la storia triste e dolorosa di Francesco Lorusso sì anche se non sarà lui il personaggio principale ma ma un racconto degli anni 70 a Bologna di quel marzo 77 a Bologna dal punto di vista di alcuni poliziotti poliziotti che in quel periodo cercavano di smilitarizzarsi cioè di di evitare quello che era il regime militaresco che accompagnava le forze di polizia e quindi affrancarsi da questa situazione e c'era un movimento così come c'era il movimento degli studenti c'era il movimento dei poliziotti democratici che cercavano di venire fuori e di tirar fuori il sindacato e tutte quelle cose che poi effettivamente sono accadute e quindi mi interessava proprio raccontare questo periodo strano della nostra città e anche della polizia e prendendo come riferimento il marzo del 77 e provando a fare un romanzo storico quindi è un altro aspetto anche io probabilmente guadagnerei molti più soldi se facessi un commissario seriale se facessi un ispettore seriale con le sue manie che va a mangiare negli stessi posti che mangia che ne so le frittelle della nonna invece i miei poliziotti mangiano malissimo stanno tutti male veramente e non hanno semplicemente la colite o la sciatica o qualcos'altro o l'obesità e e quindi quegli anni mi tra l'altro c'è un film straordinario che si intitola Io ho paura che è un film di Damiano Damiani del 77 con Gian Maria Volontè che racconta proprio una storia di un poliziotto che ha una storia sentimentale con una del movimento e viene invischiato in una vicenda molto più grande di lui facendo anche una brutta fine e non prendendo però sulla falsa riga di questa storia ma immaginando invece una un personaggio dei servizi che infiltrato nel movimento compie delle cose un po' strane basta non dirci troppo perché quello che ci hai detto è già estremamente promettente ti facciamo moltissimi auguri per la tua scrittura e il tuo libro e ti ringraziamo di essere stato qua oggi io concluderei questo nostro incontro con una una così un giochetto una piccola abitudine per dare un po' di sapore e colore a questi incontri finale un piccolo fuoco d'artificio finale leggeremo tutte le volte che un ospite è con noi una breve frase che riguarda il mondo che ci piace di cui vogliamo parlare in queste occasioni il mondo dei libri della scrittura e di tutto ciò che riguarda libri e scrittura non vi citerò l'autore delle citazioni se non in rari casi perché sarà indispensabile perché trovo che è più ancora più divertente e più stuzzicante e oggi cominciamo con questa c'è poi quella famosa teoria di Dio come scrittore scrive luce ed ecco appare scrive terra uomo e il gioco è fatto se nessuno scrittore è mai arrivato a questo punto alcuni ci sono arrivati vicino parecchi ci provano troppi credono di esserne capaci e non lo sono grazie grazie a Maurizio e a Mattrone grazie a tutti e arrivederci alla prossima volta